È un atto importante perché ci consente non soltanto di entrare nel novero degli IAT della provincia di Bergamo, che sono oggi 10 e con il nostro arriverebbero a 11, ma di creare lo IAT di dimensioni importanti per quanto riguarda sia il bacino del numero di abitanti e sia il bacino di utenza potenziale, ma soprattutto con l'obiettivo di andare a sviluppare ulteriormente quella professionalità nel turismo che ha già visto le sue basi con l'ufficio turistico di NOSSA, verso il quale andiamo insieme nella direzione di una continuità di lavoro, ma andando sicuramente a sviluppare ulteriormente la formazione, la capacità di informare, il bilinguismo con l'inserimento anche della lingua inglese in molti dei nostri documenti informativi, insomma andare a potenziare tutti quei servizi che già oggi abbiamo a nostra disposizione. Il tutto con il sostegno e il riconoscimento di due enti importanti come provincia e regione, perché non dobbiamo dimenticare che lo IAT sarà ufficio riconosciuto formalmente e ufficialmente da questi enti superiori. Per l'ufficio di Punta NOSSA sono previsti alcuni lavori? Sì, inizieremo proprio dalla parte infrastrutturale. Purtroppo le condizioni del nostro ufficio turistico non sono sicuramente ottimali. Bisognerà fare degli interventi all'interno della struttura con la risistemazione dell'ufficio al pian terreno, ma anche con lo sviluppo di un nuovo ufficio nel semi interrato. Quello diventerà la sede ufficiale della promoserie, mentre gli uffici sovrastanti saranno gli uffici dedicati all'OIAT, quindi ai servizi di informazione e accoglienza. In più stiamo pensando, e siamo ormai a buon punto, di andare a risistemare quella che è la facciata esterna dell'ufficio, che non versa in buone condizioni. Ci sono già anche alcuni progetti che avete attivato come promoserie? Sì, ci siamo mossi sul fronte della promozione attraverso la presenza della nostra organizzazione a Parigi e poi successivamente all'artigianamento in fiera. In questi due casi, la promoserie è apparsa con un folder informativo, il primo folder, quindi una brochure di buone dimensioni, che ha presentato per la prima volta la Valle Seriana in termini unitari delle sue sette aree, comprensiva anche della ricettività. Stiamo sviluppando e mettendo le basi per la creazione del sito unico della Valle Seriana e di quel marchio che sarà il biglietto da visita del nostro territorio, su cui abbiamo intenzione di realizzare un concorso di idee aperto a più aziende di comunicazione. La stagione invernale non è finita, si continua a sciare, ma già abbiamo alcuni dati. Sì, possiamo trarre un bilancio sostanzialmente positivo rispetto a quella che è stata la settimana di Capodanno, che ha avuto un buon incremento di presenze. Lo abbiamo registrato sia sull'Alta Valle Seriana sia sul comparto di Selvino, dove fra l'altro sono stati buoni segnali anche rispetto ai singoli weekend, alla presenza giornaliera di turisti di prossimità, quindi in particolar modo quelli della città di Bergamo, ma è sostanzialmente buono tutto il periodo. Abbiamo avuto qualche calo sulla settimana di Natale e qualche disdetta tra il 6 e il 9 di gennaio causa maltempo, ma comunque possiamo archiviare un periodo che riteniamo buono.